ciao ragazzi sono luca sono qua della provincia di venezia però abito a sofia e noi siamo un progetto di tipo un airbnb decentralizzato io sono nel settore degli appartamenti turistici dal 2001 per parecchi anni avevo un portale tipo airbnb poi arrivato il bmb e mi ha fatto mandato a lavorare e però poi è arrivata la block chain e quindi ho visto la possibilità di vendetta insomma e sono nel bitcoin da circa 2013 prima della bolla cinese e ho scoperto l'etereum verso 2017 e quando ho scoperto eterium ho capito che c'era questa possibilità di fare un portale di prenotazioni decentralizzato per oggi vi parlo di medioevo del feudalesimo perché recentemente nella conferenza una persona ha fatto questo diciamo parallelo con il mondo di internet e mi ha colpito parecchio tanto che non sono riuscito a togliermi dalla testa che vuol dire che è una metafora abbastanza potente questa cioè il feudalesimo come era nel medioevo è questo c'era il re che aveva la terra e l'oro e assegnava dei pezzi di terra ai feudatari che però non la lavoravano la davano ai servi della gleba che facevano il lavoro e che avevano come diciamo ruolo quello di creare del valore e darne una parte ai feudatari quella che si può dire quasi una commissione una parte del raccolto la caratteristica dei servi è che non avevano nessun diritto in qualsiasi momento poteva essere cacciato dalla propria terra magari perché non so il figlio guardava storto la principessa e quello finiva magari ammazzato comunque la famiglia veniva veniva toltre la terra oppure chi si ricorda l'albero degli zoccoli che è un film un po più recente quello sistema feudatario cioè il contadino che lavorava la terra mi pare fosse sul bergamasco e perché doveva fare le scarpe gli zoccoli al figlio taglia un albero e il padrone lo manda via vanno tutti sul carretto e sono senza terra insomma quindi il servo è quello che lavora ma non ha diritti ok e poi ci siamo come dire evoluti abbiamo deciso che come società funziona un po meglio lo stato di diritto cioè c'è una legge siamo tutti cittadini anche il presidente anche il primo ministro e ciò che veramente diciamo fa girare le cose sono le leggi scritte in maniera chiara ok ora verso gli anni 90 arriva un nuovo sistema che inizialmente ignoriamo viene fuori questa cosa chiamata internet dove puoi fare le mail puoi fare i siti ma sembra così interessante anche quella come la block chain solo per criminali poi invece diventa una cosa un po più diciamo pervasiva diventa molto importante nel passaggio da da un gioco a qualcosa di nuovo un po come oggi la block chain a qualcosa di fondamentale perché internet diventa praticamente un nuovo mondo è un mondo diciamo è un layer superiore rispetto alla alla realtà fisica ora questo mondo però non viene legiferato parte in maniera molto così anarchica un po da far west infatti non c'è uno stato di diritto ancora in internet facciamo un piccolo ragionamento su cos'è internet internet è un sistema un protocollo aperto decentralizzato eccetera eccetera sono concetti che sicuramente avete sentito queste settimane e però fa una cosa sola fa trasmissione dati veloce ed economica prima per mandare una foto dovevo stamparla mettere una lettera mettere un franco bollo e spedirla oggi grazie a internet spedisco in maniera immediata quindi questo fa internet non è che faccia altro e solo facendo questo ha fatto quello che ha fatto insomma il federalismo digitale è questa lettura di internet nella quale si dice che il re oggi è l'investitore cioè è quello che ha l'oro l'investitore dà l'oro ai feudatari cioè gli imprenditori in particolare gli imprenditori delle piattaforme le piattaforme intendiamo amazon google bookie.com airbnb noi siamo nel settore diciamo airbnb per cui quello e la piattaforma non è che fa il lavoro quando voi andate in un airbnb non è airbnb che vi ha preparato la stanza non è airbnb che ha comprato la casa airbnb fa solo da piattaforma chi fa il lavoro duro il lavoro sporco sono gli utenti quelli che si chiamano host quelli che veramente fanno lavoro duro e c'è una caratteristica particolare di questi host che sono partiti come i nuovi imprenditori anche uber se ci pensate no all'inizio bello lavoro diciamo indipendente non sono più un dipendente faccio anche i soldi eccetera all'atto pratico in uber chi guida la macchina spesso va anche a farlo schiavo spesso va anche sotto perché non sa fare i calcoli di quanto costa la macchina e tutto il resto perché diciamo in questa teoria l'utente è il servo della gleba perché non ha diritti tu sei in airbnb finché va bene l'airbnb se è in un certo punto decide di cacciarti ti caccia e questo succede quotidianamente e si chiama de platforming quanti di voi hanno scritto questo nome de platforming? vuol dire sei fuori dalla piattaforma vuol dire il tuo account youtube è chiuso vuol dire il tuo account amazon è chiuso vuol dire il tuo account airbnb è chiuso capita quotidianamente l'ultima di venezia un ragazzo che aveva mille recensioni e cinque appartamenti un cliente questa roba di poche settimane fa un cliente è arrivato in casa ha visto il rilevatore di fumo o di co2 ha visto una lampadina lampeggiare ha chiamato airbnb mi stanno spiando c'è gente un po c'è un po di tutto no? ma la cosa interessante è che airbnb non è che ha detto vabbè vediamo airbnb ha bloccato l'account di questo ragazzo che viveva lui e la sua famiglia vivevano di airbnb ha scritto al ragazzo dicendo il tuo account è sospeso intanto proprio senza nessun processo quindi senza nessuna legge che lo proteggesse ha sospeso l'account ha detto un cliente si è lamentato della privacy ha detto che ha visto una telecamera e lui chiede quale cliente e fa non te lo possiamo dire per privacy fa quale appartamento non te lo possiamo dire per privacy cosa puoi dire al tuo discolpa cosa vuoi che dica mi discolpa che non so niente e non gli ha potuto rispondere dopo qualche giorno arriva un'altra mail ok il tuo account è chiuso tutte le due pronotazioni future sono cancellate quindi di conseguenza hai perso anche le recensioni non provare a riaprire un account e non chiederci perché perché non ti risponderemo più questo è un approccio diciamo da non democratico non di stato di diritto e questa è un po' la prova in altri casi c'è lo shadow banning cioè tu sei ancora in questi portali in queste piattaforme però non ti arrivano più pronotazioni e non sai neanche perché perché l'algoritmo ha deciso che quindi questa è un po' la situazione in internet oggi le leggi cioè il legislatore ovviamente è indietro di dieci anni è indietro lo sappiamo benissimo nella blockchain ma indietro anche su internet che c'ha 25 anni il legislatore italiano ha scoperto Airbnb due anni fa e ha fatto una legge che poi Airbnb ha detto io non la rispetto non so se la sapete ma di base è stato provato il fatto che queste piattaforme molto decentralizzate in realtà perché Airbnb le tasse le paga mezzo in Irlanda mezzo in Olanda poi non le paga se viene attaccarlo in Italia non c'è niente in Italia paga mi pare 30 mila euro all'anno di tasse in Italia e quindi non possiamo aspettarci una soluzione da parte di diciamo dello stato di diritto stato di diritto che ci solverà che ci risolverà problema quel secondo me è lo smart contract cioè una legge ben chiara decentralizzata e quindi potente che mette per iscritto le regole quelle vanno rispettate quindi ci risolviamo noi il problema senza aspettare il legislatore insomma ora le recensioni questo ragazzo le ha perse mille recensioni era il suo vero asset ci ha lavorato tanti anni ha dovuto inghiottire chissà quanti rospi e le ha perse non erano sue perché nelle piattaforme noi non abbiamo nessuna proprietà ripeto siamo la finché ci ci vogliono e anche l'ospite questi sono le mail adesso questo per vivere però le mail che tu vedi dei tuoi clienti nel b&b e booking sono masked sono coperte non ti dando la mail vera ci mettono il loro davanti ci mettono un codice poi è il loro il loro dominio quindi fanno di tutto per evitare che tu abbia un contatto detto cliente poi ce la fai se vuoi però per far vedere come cercano di avere in mano anche il cliente quindi tu a booking a volte paga una commissione di 100 euro per una prenotazione perché prende il 18 per cento più o meno per cento euro non ti dando neanche la mail dei clienti ci danno praticamente un cliente da servire riverire che poi tornerà di nuovo via booking ora piccola parentesi non sto facendo discorso etico se fossi al b&b o booking io farei uguale perché comunque la piattaforma deve competere con altre piattaforme si diventa improvvisamente buona dopo due mesi è morta quindi è proprio il sistema che porta a queste dinamiche e fino a qualche mese fa pensavo dicevo vabbè visto che gli host e gli abbergatori sono sfruttati almeno il cliente è trattato molto bene in realtà noi come esperienza di cliente tutti noi prenotiamo in queste piattaforme ci sentiamo trattati abbastanza bene in realtà se andate a vedere dal livello tecnico cosa fanno queste piattaforme booking in particolare molto bravo c'è un livello di manipolazione altissima parlo di manipolazione psicologica altissima non ti portano a prenotare l'albergo migliore per te in quel momento quello che costa meno ti dà la migliore qualità ti portano a prenotare l'albergo che conviene a loro in particolare se notate quella a sinistra dove scritto programma preferiti ti portano a prenotare l'albergo che paga più commissioni dato che le commissioni che clicca l'albergatore poi paga booking i soldi dove li prende non li prende dagli investitori o dalle banche li prende dal cliente quindi spinge te cliente a pagare una prenotare un albergo che paga più commissioni quindi praticamente spinge te a pagare più commissioni e tante altre cose del genere insomma non mi soffermo quindi a un certo punto facendo questi discorsi viene fuori vado all'host poverino il nuovo operaio sempre più gente lavora in airbnb e fa come primo lavoro airbnb visto che lavoro ce n'è poco però poi ci ragioni dici no l'operaio sta meglio cioè l'operaio ha una sicurezza sul lavoro ok ora facciamo un passo indietro se sono un airbnb e ci lavoro tutto il giorno e porto a casa 5.000 euro al mese è un discorso ma stiamo arrivando e io lavoro su venezia a gente che fa dalla mattina alla sera sto lavoro e non otto ore per cinque giorni ma continuamente porta a casa 1.000 euro quindi come l'operaio o anche meno non ha la sicurezza sul lavoro perché può essere licenziato da un algoritmo spesso queste decisioni non sono neanche una persona che le prende l'algoritmo decide che questo account ha dei movimenti così strani o comunque non conviene e ti mandano a me dicendo che è chiuso l'account non ha ferie se fa ferie non viene pagato quindi deve pagare qualcuno il suo posto quando smette di lavorare nel bambino la liquidazione e soprattutto non è che va in fabbrica a marghera gli danno una macchina da lavorare deve portare sul posto di lavoro una casa ok quindi i mezzi produzione quindi sta molto peggio del dell'operaio ora come se ne esce vedete le caravelle lì allora come com'è che sono gli inglesi che stiano oppressi dalla corona ne sono usciti sono andati in america sono andati in un nuovo continente l'hanno organizzato in maniera più democratica adesso insomma sono un po di generati però per un po è stato un po il modello della democrazia si sono fatti un sistema nuovo e quello che stiamo facendo noi con la block chain in un certo senso stiamo andando via da questi sistemi perché non sono salvabili non sono non è che possiamo almeno questa è la mia visione un po pessimistica sperare che si sistemi la politica che si sistemino le banche quello ormai è così sono fossilizzati dobbiamo creare dei sistemi completamente nuovi il bitcoin non ha come si dice spesso chiesto permesso ha fatto una cosa completamente diversa ora nel caso nostro di piattaforme io due anni che giro l'italia anche un po il mondo per spiegare quello che facciamo noi in trips e parlavo di block chain block chain ogni volta che dicevo questa parola perdevo gente per strada è una parola che scaccia veramente la gente la fa addormentare perché è una parola nuova ok da qualche mese ho detto ma forse non è il modo migliore per comunicare in realtà cos'è la block chain se non semplicemente un upgrade di internet è sempre internet che fa delle cose in più ora se prima faceva solo trasmissione dati adesso fa altre quattro cose molto importanti o fa o si sta evolvendo per fare ok poi sappiamo che non è maturo uno è la reputazione la reputation cioè pensate a quando è nato internet nasce ci rendiamo conto che possiamo finalmente trovare un acquirente per la mia bicicletta gli dico guarda ho la bicicletta si la voglio comprare lui dice mandamela dico cavolo che te la mando poi non mi paghi mandami i soldi e lui col cavolo ti do i soldi poi non me la mandi e appare ebay cos'è ebay ebay viene a sopperire a una mancanza di internet come tecnologia e crea la reputazione quindi terza parte che gestisce la reputazione appare ebay improvvisamente diventa possibile transare online solo che c'è ebay di mezzo adesso e il potere lo prende ebay e va bene cioè è da parecchi anni che sta cosa funziona senza ebay senza il bmb senza gli altri non avremmo questi marketplace perché internet non è in grado di farlo con la block chain per esempio in trips se tu hai una prenotazione in trips che è su ethereum poi ne parlerà magari valerio un po più approfonditamente la recensione che scrive il cliente non va a noi noi non la possiamo toccare è scritta blockchain ipfs quindi è un rapporto tra il cliente che la scrive e internet ok noi non la possiamo toccare non è che non la possiamo toccare per contratto non la possiamo toccare proprio non è possibile quindi appaiono dei sistemi di reputazione decentralizzata che vuol dire mi fido di internet non ho più bisogno di fidarmi di un tripadvisor un ebay o un airbnb quindi internet si arrangia internet dice a queste piattaforme non ho più bisogno di te pagamenti una grossa cosa che ha fatto airbnb che ha reso airbnb un successo è stato prendo io i soldi del cliente quando il cliente viene dall'appartamento se va tutto bene te li rilascio ok anche booking adesso comincia a fare questa cosa perché risolve un problema grosso al cliente e abbiamo più bisogno perché con un escro possiamo fare la stessa cosa noi usiamo uno smart contract ethereum che accetta in questo momento ethereum dai tether e gli origin token quando tu prenoti in trips mandi i soldi nelle cripto in questo smart contract non li puoi riprendere quando vai all'appartamento se sei contento li rilasci ok il proprietario non li può prendere non può fare niente può solo aspettare abbiamo messo in piedi un sistema di escro decentralizzato cioè la contestazione interviene un panel cos'è il panel è chiunque fa parte del network un host un guest o anche un esterno che si è messo a disposizione come giudice invece di una persona seduta a dublino di al b&b che fa 50 contestazioni al giorno magari non sa niente nella città nella situazione abbiamo cinque persone che a votazione decidono e poi vi parlerò di velocemente di cleros che un progetto block c'è in che fa esattamente questo e probabilmente andremo usare quello invece di sviluppare il nostro quindi anche la contestazione può essere gestita in maniera decentralizzata la governance e qui mi rifaccio le dao non so se avete parlato di dao in queste settimane ok se le dao e quando le dao cominciano ad essere mature potremmo gestire far prendere decisioni aziendali in maniera decentralizzata noi stiamo parlando con dao stack ci stanno mettendo in piedi una dao per noi per cominciare a fare le primi primi passi in questo ambiente che comunque molto molto acerbo questi sono i tre pilastri per i quali esistono le le piattaforme se riusciamo a farli noi noi intendo noi di internet noi della block chain il loro modello di business diventa obsoleto ok ora sembra strano dire ma come fai a fare l'airbnb senza airbnb o il bookie senza booking noi ci siamo già passati per un processo nel quale prima c'era un'azienda e adesso non c'è più quando telefonavamo pagando un sacco di soldi io ero in australia nel 2000 c'era un paio di amici che per chiamare a casa mettevano i soldi e poi con la cannuccia facevano accadere i soldi ma rimaneva il credito e quindi telefonavano era carissimo telefonare in italia e loro siccome era gratis stavano ore al telefono non ci viene neanche in mente una cosa del genere oggi spari whatsapp spari telegram telefoni cos'è successo che adesso è gratis telefonare c'è stato un incontro di telecom che hanno detto basta abbiamo preso troppi soldi perché facciamo così dai diventiamo buoni no è arrivata una tecnologia aperta decentralizzata permissionless unstoppable eccetera che sono le stesse gli stessi aggettivi della blocce internet che ha messo ha detto i dati adesso viaggiano gratis poi arrivato il voice over ip che ha detto adesso i dati voce viaggiano gratis poi arrivato un'interfaccia facile skype che ha detto adesso viaggi i dati viaggiano gratis e poi collegati al computer ovviamente derisa all'inizio perché era lenta serviva il computer eccetera eccetera ma l'evoluzione è stata internet permette le telefonate gratis la stessa cosa dovrebbe in teoria almeno secondo me accadrà sulle piattaforme ok ora valerio che fa parte della community trips vi presenterà trips come progetto una cosa noi siamo un progetto più decenterizzato possibile l'ho lanciato io però siamo una community tutte le persone che lavorano a trips lavorano in maniera volontaria tokenizzata quindi ricevono dei token valerio è un ingegnere che lavora per una start up californiana un giorno è apparso e si è messo a lavorare per trips domani mattina si stufa sparisce amici come prima non sono contratti non è stipendiato eccetera come lui tanti altri e quindi stiamo riuscendo a creare qualcosa di flat quindi non c'è una gerarchia io sono a capo e questo è un problema diciamo è uno degli aspetti di fragilità del progetto perché se io domani salto probabilmente la cosa si spegne però stiamo cercando appunto di decentralizzare ma non c'è una struttura manageriale e neanche la vogliamo perché come forse avete parlato le dao teoricamente sono più scalabili ok quindi passo la parola a valerio che parlerà di trips abbiamo si scusa e abbiamo aperto questa azienda in estonia perché ha una legislazione favorevole a block chain noi speriamo questa azienda di poterla chiudere ok bel bel inizio no? ok 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 ciao a tutti sono valerio come diceva luca hai due anni che lavoro in trips sono ingegnere informatico lavoro in tecnologia da più di dieci anni forse 12 13 ormai e da questo punto della presentazione parliamo di trips che cos'è trips ma partiamo da cosa non è trips perché credo che sia un concetto nuovo e noi siamo abituati a avere queste start up che prendono soldi cominciano a svilupparsi hanno funzionato finora benissimo non è detto che questo sia il modello del futuro quindi sicuramente non siamo una start up non abbiamo investitori non abbiamo gente che ha messo soldi che ha preso parte del possesso dell'azienda modello classico diciamo non abbiamo avuto fondi da soggetti terti non lo scopo non è cercare una exit cioè cosa fanno le maggior parte start up hanno un'idea buona cattiva trovano investitori gli investitori chiaramente si prendono una fetta dell'azienda ancora prima che sia nata si siedono normalmente nel consiglio di amministrazione dell'azienda spingono i fondatori a farla crescere eccetera e a un certo punto arrivano i soldi in 4 5 10 anni ma loro vogliono fare il botto non vogliono un 200 per cento loro vogliono il 2000 per cento e questo ha funzionato finora perché sicuramente era un modello che si è visto collaudato e ha funzionato il problema cos'è che cercano una exit per essere acquisiti per essere venduti per fare i soldi e alla fine i soldi rimarranno in mano agli investitori ai founder e probabilmente ai primi impiegati che sono sono entrati hanno preso un po di stock off show però tutti gli altri cosa prenderanno pensiamo a uber che è la più grande taxi rental al mondo non possiede una macchina non possiede un autista ma prendono tutti i soldi airbnb stessa cosa non possiede una casa però intanto assorbe un sacco di questi profitti e facebook non possiede nulla tutti gli regalano informazioni e loro le sfruttano abbiamo tantissimi esempi di come gli asset siano le persone che lavorano ma in realtà non sono quelle che guadagnano guadagnano sempre i founder o chi ha creato il tutto quindi lo scopo non è cercare una exit e non cerchiamo non è la ricerca del profitto che può sembrare strano perché tu dici allora cosa lavori a fare ci sono altri modi grazie alla decentralizzazione alla tokenizzazione diciamo di guadagnare con un'idea abbiamo anche esempi del passato linux software open source è nato come diciamo software aperto tutti potrebbero collaborare abbiamo visto poi che si è anche impiantato in aziende che sono disposti a pagare per avere servizi accessori quindi abbiamo esempio anche nel passato di cose open source che hanno comunque generato un profitto specifico al caso del vacation rental gli annunci non ci appartengono come diceva prima Luca il problema delle piattaforme che possiedono tutto possiedono il tuo lavoro possiedono la tua visibilità possiedono i tuoi annunci ti buttano fuori tu non hai più gli annunci hai perso tutto e le recensioni non ci appartengono ancora peso gli annunci l'annuncio te lo puoi ripetere non succede niente le recensioni che sono quelle per cui tu hai sudato lavorato ti sei fatto un culo tanto stando dietro ospiti che magari non erano i più graditi comunque sono il tuo asset e te le perdi e ops ragazzi avete no mi sa il cavo è saltato il cavo vabbè andiamo avanti comunque niente non è il problema appunto che non non c'è il possesso di queste cose e si viene buttati fuori dalla piattaforma non non resta nulla e non mi ricordo quelli negli altri due punti in fondo ah no ah perfetto ok quindi incoraggiamo la concorrenza perché perché una volta che gli annunci vengono messi come diceva Luca vanno in blockchain c'è avete introdotto il concetto di ipfs interplanetary file system insomma un file system distribuito che non è come il solito con i server in mano a qualcuno ma è distribuito quindi non può essere deciso a te ti faccio mettere i file a te no il codice è aperto quindi completamente open source e anche la collaborazione è aperta cioè si incoraggia la collaborazione e la concorrenza perché noi non vogliamo essere l'unica piattaforma noi vogliamo essere una di quelle che ci prova a dare visibilità ma anche altri possono venire a fare concorrenza perché alla fine tutta l'innovazione che abbiamo visto in tecnologia si è solo realizzata quando c'era concorrenza abbiamo visto con le telecomunicazioni penso che qui abbiamo più o meno la stessa età nella sala e prima che ci fosse vodafone o team quando c'era solo telecom non si innovava nulla dopo è cambiato tutto quindi la nostra soluzione qual è? è una piattaforma peer to peer tra chi cerca un alloggio e chi offre l'alloggio praticamente gli intermediari dove vanno a finire Airbnb, Booking, Expedia diciamo vengono messi da parte e questo tramite la decentralizzazione degli smart contract perché invece di esserci un gestore dei pagamenti nel mezzo ci sarà uno smart contract le recensioni e le reputazioni staranno in blockchain e quindi non abbiamo più bisogno del man in the middle l'uomo in mezzo che lui fa un buon lavoro però si prende una grossa fetta di guadagni questi sono i numeri della community come diceva Luca la community è una community è un gruppo di persone che è partito da Luca l'idea che lui è andato in giro promuovendo l'idea facendola conoscere che sono interessate alla blockchain al vacation rental, alcuni sono viaggiatori capiscono il problema di queste piattaforme che prendono un sacco di valore e non restituiscono quindi si uniscono al progetto e portano le loro competenze io sono ingegnere informatico c'è chi lavora nel marketing, ci lavora nella comunicazione e quindi mettono a disposizione il proprio lavoro, le proprie competenze in cambio di token ma è tutto volontario come dice Luca nessuno ci obbliga, non siamo direttamente stipendiati, non siamo legati e se a un certo punto non possiamo più collaborare o non vogliamo benissimo, i token comunque sono nostri, se non ce li perdiamo negli anni magari un giorno avranno qualcosa se io penso a un Amazon, un Airbnb, a un booking, se avessi potuto partecipare dieci anni fa magari mi sarebbe rimasto anche dieci token e magari sarebbe provato sicuro che valgono ora ok, non è diverso dal bitcoin no? questi eroi di un bitcoin alla fine, preso qualche anno fa però lì non c'è l'accesso perché anche quando c'è una IPO, una initial public offering now noi non possiamo accedere, prima ci sono gli istituzionali, poi quando hanno fatto tutto loro le briciole arrivano a noi quando c'è stata quella di facebook noi non potevamo accedere a meno che abbiamo qualche milionario qui ma non so, se c'è buon per lui buon per lei insomma questi sono i numeri della community stiamo cercando di aumentare ancora la partecipazione perché sicuramente ogni persona che entra porta magari nuovi problemi che sta avendo nel vacation rent a nuove competenze e lo scopo è far crescere questo ma in una maniera decentralizzata ed open source quindi non c'è nulla di meglio che avere persone sparse in tutto il mondo che si uniscono perché sono interessate non perché hanno bisogno di una stipendia qual è il business model? perché alla fine uno, credo che la domanda che nasce quando sei in un open source come Linux dici ma perché io devo mettere la mia ora a programmare questa roba uno lo fai per passione perché ti interessa, ti piace, ti interessa e l'unico modo, lo dico in tecnologia, di capire una tecnologia è metterci le mani puoi studiare finché vuoi, libri su libri ma finché non ci metti le mani non capirai le implicazioni pratiche perché poi ci sono implicazioni di business, di marketing magari anche di politica in tante cose quindi bisogna metterci le mani il business model sarà basato su commissione e tokenizzazione allora commissioni lo capiamo tutti benissimo perché è quello che succede adesso qualunque transazione noi facciamo su una nota, su una piattaforma c'è una commissione al momento tra buchi in Airbnb siamo sul 18-20% ogni transazione se ci mettiamo la loro fetta, le commissioni delle carte di credito, tutti gli intermediari siamo su quella cifra noi vogliamo abbassarle di base, si arriva anche a 25 noi vogliamo abbassarle a 5% flat, fisso e quindi cosa vuol dire? Che se prima una transazione costava il 20-25% adesso costerà 5% dove va quel valore? Non lo prendiamo noi quello lì sarà il valore che abbasserà il costo per i guest che prenotano pagando meno perché il prezzo si è abbassato e aumenterà il guadagno degli host perché comunque c'è un 15-20% che prima si prende la piattaforma adesso tramite uno smart contract verrà ridistribuito e poi c'è il concerto della tokenizzazione dove entriamo di base anche noi siamo in un corso di blockchain quindi sapete cos'è un token avete capito? Come un token acquista valore nel tempo il token è come una stock di un'azienda se l'azienda va bene il mercato la premia stessa cosa con i token se Trips andrà bene il nostro token comunque avrà valore quindi la tenda crescerà e raggiungerà una capitalizzazione più alta di quella che è adesso ed è lì che anche chi ha investito presto come noi lui come fondatore ma anche chi ci ha lavorato e ha preso i token presto gratis, insomma gratis mettendoci il lavoro avrà un reward dopo nel tempo se il mercato premierà l'idea se il mercato non la premierà ci saremmo divertiti però avremo avuto la possibilità di partecipare dal giorno 1 non dal giorno 756 quando sono già passati tutti quelli grossi e a noi resta le briciole quindi è proprio un cambio di paradigma se prima c'erano la torta era investitori e founders e forse gli early employee di un'azienda adesso ci può entrare chiunque a voi piace questo? Venite, vi piace un altro progetto? ci entrate, andate nei canali social e cominciate a lavorarci e sicuramente otterrete token quindi il problema di tutte le idee di tutte le piattaforme per quanto belle possono essere una volta messe online è avere clienti perché come strappi clienti a book in Airbnb o a sistemi che io stesso riconosco sono farsi da usare e so che vado lì adesso perché hanno tutto il catalogo del mondo degli alloggi in tutto il mondo promettendo, cioè promettendo facendo vedere che c'è fino a un 25% di risparmio e insomma un utente sicuramente è sensibile a questo e sicuramente anche l'ultimo priorità sulla disponibilità cioè se siamo abituati ad avere un calendario aperto per Airbnb, Booking e Expedia agli host che mettono a disposizione la loro casa su Trips gli diamo una priorità praticamente cioè su Trips ci sarà un costo più basso che gli altri e appunto se gli host decidano di premiarci dare la disponibilità prima al nostro calendario che è quello della specifico velocemente questa se io sono un host e comincio a ricevere pronotazioni da Trips o da altri progetti integrati e guadagno di più a un certo punto dirò vabbè l'altra stagione dove comunque sono pieno intanto tengo chiuse le OTA quindi Booking e Airbnb e tengo aperto Trips spero di prendere lì e se non vale apro nel momento in cui io sono un cliente e vado in Airbnb non c'è in Booking non c'è e c'è in Trips sono un po' più costretto a fare il salto perché altrimenti se è tutto uguale sto nelle OTA vecchie questa è una speranza nostra ovviamente però di base non possiamo convincere il cliente se non dicendoli o così o aspetta e poi magari quella casa che volevi non c'è più ok ok va bene qui c'era la mappa del mondo prima comunque questa è la community abbiamo persone che lavorano nella community nei paesi che vediamo Italia, Spagna, Giappone abbiamo Stati Uniti anche in Africa e come ho detto questo è tutta partecipazione volontaria e più per passione direi che per speranza di guadagno perché comunque sempre nelle statistiche di una qualunque startup in ora il 99% falliscono siamo sicuri percentuali sì scusa se intervengo ancora di base pochi lavorano sperando che i trips abbiano valore vengono a lavorare per imparare per quello che state facendo anche voi è un modo per imparare questo nuovo mondo per prepararsi al futuro lavorando in trips acquisisci delle competenze molto importanti ed entri anche in contatto con persone che sono preparate quindi è una cosa la motivazione è un po' la stessa che ha portato voi qui a questo corso e questo è un ROI garantito un ritorno sicuro se stai un anno con trips o proprio dormi o qualcosa impari ci metti del tempo e in cambio ti diamo competenze se poi è proprio fortuna i trips hanno successo ma siamo i primi a dire che valgono meno di soldi e monopoli e le probabilità sono infime ok non è che diamo alla gente speranze di arricchirsi con trips però anche tramite trips magari arrivi ad altri token infatti alla fine vi regaleremo vi faremo arrivare dei token che hanno già un valore quindi c'è una garanzia di ritorno ma l'ultima cosa che promotiamo è che i trips avranno valore insomma magari sarei un milionario ok e qui abbiamo advisor del progetto non so se ne conoscete qualcuno perfetto e partner del progetto che si sono associati ok allora punto fondamentale tutto bello l'idea facciamo trips usiamo la blockchain smart contract eccetera però poi c'è anche la pratica da lì da zero creare una blockchain non è immediato insomma ne abbiamo begli esempi bitcoin ethereum tante altre però insomma c'è una community ci sono sviluppatori ci sono investimenti anche molto molto significativi noi abbiamo deciso di utilizzare origin che cos'è origin qualcuno conosce origin protocol ok perfetto il quarto progetto è tero un più attivo sindicato ok quindi non è uno di quelli raccolgo i soldi c'è uno sviluppatore chissà dove non succede nulla loro lavorano veramente e che cos'è origin protocol loro stanno creando una piattaforma per creare marketplace marketplace che può essere di vacation rental come nel nostro caso marketplace per vendere come bay marketplace per le auto qualunque tipo di marketplace stanno creando la piattaforma e lo stanno creando tramite questo origin protocol che cos'è un protocollo ne abbiamo tanti esempi nella nostra vita il protocollo per mandare mail l'SMTP il protocollo per accedere a internet HTTP però a questo punto è tutto talmente avanzato il tool che abbiamo che non ci interessa più il protocollo che c'è sotto lo usiamo e basta loro stanno creando il protocollo che speriamo un giorno noi ignoreremo però ci permetterà di creare questi marketplace distribuiti e sono basati su blockchain in ethereum quindi hanno il loro token OGN OGN token e i fondatori hanno raccolto 38 milioni di dollari l'anno scorso o qualcosa fine 2017 e tanti progetti hanno raccolto soldi tanti progetti hanno già chiuso tanti progetti non hanno mai fatto nulla alcuni sono scappati con i soldi perché non c'è regolamentazione perché abbiamo scelto origin? perché ci sono persone che noi riteniamo in gamba per esempio il primo è il paypal co-founder e il primo ingegnere di youtube la persona sulla destra è un altro youtube founder altri che lavorano nel progetto hanno lavorato per paypal per google per doorbox cioè è gente comunque con esperienza che è passata per il mondo delle start up ha creato un prodotto ha fatto la exit cioè diciamo sanno quello che stanno facendo e come dice luca i numeri parlano sono attivi su kitab diciamo hanno dei fondi per sostenere questa crescita e stanno creando un prodotto che è già utilizzabile c'è un'app c'è una che è basata su blockchain si possono già mettere gli annunci si possono comprare è ancora un po' ruvida da usare come tante cose all'inizio e questa va bene io ho grande e lo ripeto ah esatto è tagliata l'avevo aggiustata ah il pdf questo ok quindi ah scusa vacation rental ok perché il loro è un marketplace cioè è una piattaforma per marketplace non stanno creando il marketplace del vacation rental il marketplace delle auto il marketplace di eBay loro mettono a disposizione il tool in cui tu ti puoi creare il tuo marketplace quindi noi sicuramente siamo nel vacation rental e siamo il loro riferimento per la verticale del vacation rental questa è l'app scaricabile per iOS Android Origin Origin Protocol se la installate cosa troverete? troverete annunci annunci di case annunci di auto annunci di qualunque cosa come su qualunque marketplace al momento è ancora tutto diciamo mischiato ci sono categorie man mano che lo sviluppo andrà avanti ci saranno gestione calendari gestione case ogni verticale si svilupperà con i suoi bisogni perché magari la vacation rental ha bisogno di un calendario il mercato delle auto ha bisogno di altre caratteristiche eccetera eccetera si vedrà ah ok ok perfetto allora c'era un video lo facciamo vedere a screenshot questo è la sequenza di una prenotazione di una casa a Milano veramente effettuata veramente passata per la blockchain veramente pagata tramite uno smart contract in Ethereum o dai ok una delle due quindi questa è l'app come appare praticamente qui vi ok di Roma perfetto questa è la casa che abbiamo identificato si può cliccare sulla disponibilità c'è il prezzo in euro ma questo non vuol dire che non passerà poi per blockchain chiaramente l'utente all'inizio deve essere aiutato se hai crypto benissimo se non ce li hai bene ci sarà un payment processor che converte il fiat nell'ecrito gestione calendario si mettono le date è tutto abbastanza classico per come lo conosciamo perfetto questa è la schermata di riassunto momento del pagamento vuoi pagare in Ethereum dai oppure c'è che ti ha l'app supporta anche tether e origin token questa proprietaria ha detto io voglio solo ether e dai in questo caso mi ha detto prenota in dai qual è il prossimo successo qui quando clicchiamo prenota la transazione che magari sembra un po' lenta ma veramente a scrivere sulla blockchain di Ethereum ritorna successo quindi i soldi vengono spostati allo smart contract nell'escro così blocca l'appartamento praticamente c'è una notifica c'è anche servizio messaggistica all'interno dell'applicazione quindi l'host viene notificato di questa presentazione dettagli della transazione e poi c'è anche lo status perché il venditore esamina la tua prenotazione la proverà quando tu andrai la casa esiste tutto ok rilascerai i soldi che automaticamente allo smart contract raggiungeranno l'host quindi il vero cambio di paradigma è che non c'è nessuno nel mezzo ci sono io che sto viaggiando e chi ci mette la casa non c'è qualcuno nel mezzo altre informazioni qui sì abbiamo valore in Ethereum valore in euro ok qui è quando il venditore ha accettato l'offerta quindi lo stato intermedio ok e lo stato finale sarebbe quando faccio check in nella casa vedo tutto ok e do l'ok a rilasciare i fondi giusto qual è il nostro prossimo passo è crowdfunding purtroppo qualunque cosa si fa per quanto decentralizzati e community servono soldi per fare marketing per fare eventi per cominciare veramente a sviluppare la propria piattaforma non solo basarsi sul protocollo che si è quindi stiamo lavorando su alcune piattaforme di crowdfunding e voi che avete fatto corso blockchain e forse vi siete interessati e forse nel vostro futuro ci sarà qualcosa di questo perché partecipare a TRIPS se vi interessa la blockchain Ethereum il vacation rental per primi che diventi di massa sappiamo tutti come è andata con internet chi c'era prima sicuramente ha fatto meglio di chi è arrivato dopo per conoscere un nuovo internet appunto per sviluppare competenze imparare a lavorare in una DAO che è un concetto un po' strano noi ne abbiamo provato interamente una ed è strano anche per noi perché non si capisce molto ma le cose vanno provate e anche avere accesso ad esperti perché comunque quando si incominciano le criptovalute le informazioni sono tante il rumore è tanto non si capisce più cosa è vero cosa è non vero cosa è importante quindi avere anche persone con cui confrontarsi è molto importante evitare le truffe sappiamo tutti se avete provato a comprare altcoin o in questo mondo quante truffe quante agente che offre sempre cose si trovano magari imparare come si fa a lanciare un progetto del genere a voi non interesse il vacation rental vi interessa il mercato delle auto le competenze sono le stesse cambia solo il campo applicativo e guadagnare origin token e trips non valgono nulla oggi origin sta per andare sull'exchange entro fine anno pare quindi se voi vi installate per esempio la origin l'app sul telefono con il nostro link potete guadagnare gli origin e magari tra un mese vi potete vendere sul marketplace stiamo aspettando che questo succeda perché la blockchain secondo noi è comunque importante perché è inevitabile cioè è una cosa che una volta scoperta è come internet come si poteva tornare indietro da internet una volta che si è visti i benefici poteva portare per tutti a livello di connessione applicazioni e sviluppi nuovi mercati del lavoro io dico spesso che è come la ruota chi l'ha vista prima rotolare penso che facessi fatica a dimenticarsene e continuare a spingere il sasso come aveva fatto prima sono quelle cose che una volta che vengono messe in pratica è difficile che lo sviluppo non vada in quella direzione questo è il nostro link per scaricare la origin app se lo fate con questo link c'è tutto il programma per guadagnare gli origin token e penso che Luca neanche qualcuno in più grazie Valerio siamo stati ad Icon in una conferenza di Milano qualche giorno fa dove ci siamo occupati della track blockchain in travel abbiamo chiamato delle aziende e due in particolare non so se le conoscete aziende blockchain Kleros conoscete? no? Winding Tree? neanche sono due posti ICO che hanno questi token già sui mercati ovviamente sono come tutti alla disperazione con i prezzi però le abbiamo chiesto di regalarci di fare un airdrop per cui ci regaleranno più o meno un controvalore di 7-8 euro per azienda a persona in token loro ho chiesto a Leo e allora ci darà gli indirizzi vostri e vi manderemo vi faremo mandare da loro i loro token quindi se vedete l'IF o PNK non è un airdrop di quelli che non hanno valore questi hanno valore guardateli vi manderemo anche i trips che in realtà non hanno valore e invece i token origin li guadagnate scaricando questa app io vi consiglio di farlo perché comunque vanno sul mercato a breve è un progetto molto molto serio e tra l'altro potete fare anche referral cioè farlo scaricare anche ad altri guadagnati ulteriori token insomma e in più guardate questa app perché è una delle prime vere app decentralizzate funzionanti potete già prenotare delle cose è scomodo ah tra l'altro sì e tra l'altro c'è un concetto avete parlato di metatransaction allora questa è una figata perché bello ethereum scarica l'app ma si procura etilietter ma dove vado vado su coinbase cioè ne perdi 9 su 10 per strada quelli di origin che sono molto focalizzati sulla usabilità hanno detto boh facciamo una roba metatransaction quando tu devi caricare un annuncio e devi dovesti in teoria pagare il gas per scrivere sulla blockchain lo pagano loro quindi l'esperienza di caricare un annuncio nella loro app è quasi come in un'app normale scarichi l'app metti le foto metti un testo metti il prezzo lanci scrive sulla blockchain veramente non per finta però pagano loro il gas lo fanno per diffondere il progetto ok e si ah non si sente si beh beh ripeto quello che hai detto che sta già scomparendo la blockchain da non c'è più bisogno già su questa app di spiegare alla gente cos'è la blockchain carica un annuncio poi nel lato del pagamento si perché ti arrivano non ti arrivano euro però già nel lato di caricare l'annuncio togli questa friction no e e quindi è un passo in avanti importante sei mesi fa facevo workshop per spiegare via browser metamask come caricar un annuncio cioè arrivo in delle stanze con un numero di persone simile allora adesso collegatevi a internet che vi spiego la blockchain tre quarti no 30% non riescono a collegarsi a internet perché smettono la pasta sbagliata te pensi se arrivo a fargli fare metamask e infatti su 35 ce la facevano con questo è già molto più semplice quindi la blockchain avrà successo penso l'abbiamo anche detto quando sparisce quando diventa una cosa dietro le quinte basta questo è il progetto abbiamo terminato non so se abbiamo tempo per domande o si va già agli spritz ok non ti sei tolto la giacchetta non hai la maglietta penso che opportunità di marketing scherzo martellago di prenotazione stampe di stanze studenti ma noi siamo esperti nell'appartamento turistico quindi non faremo le stanze però incoraggiamo chiunque voglia di venire nell'app di Origin e creare un sistema che prenda anche le stanze che faccia anche stanze si si è un mercato diverso ha delle dinamiche diverse non lo conosciamo per cui non lo facciamo però è aperto tu hai il codice è lì ti crea il tuo marketplace gratuitamente e poi crea c'è un progetto attorno come noi abbiamo fatto con l'appartamento turistico per raggiungere una cosa qual è la potenza anche di questo che sicuramente è un cambio rispetto a quello che abbiamo avuto finora diciamo che tu hai una casa la vuoi mettere in affitto la devi mettere su Booking su Airbnb e su Expedia va bene tre annunci tre proprietà diverse tutti indipendenti in questo caso tu fai un annuncio questo va a finire in IPFS che è questo file system distribuito e il codice dell'annuncio è nella blockchain quello è un annuncio poi Trips lo vuole prendere darti visibilità lo prende e case studenti lo vuole dargli visibilità e lo prende ma l'annuncio è sempre uno e sei sempre tu e porta la tua identità ma tutti gli possono dare visibilità o no possono scegliere quindi per un annuncio dopo quel codice può essere preso da tutti e quindi dopo se la tua casa è adatta sia a turisti che a studenti magari compari su due annunci poi ci sarà una gestione calendare chiaramente ma con un annuncio tu accedi a tutti i portali che decideranno di prendere informazioni dalla blockchain e listarli sui loro siti così come ti potranno togliere la visibilità sui siti dipende da chi crea il front end ma l'annuncio è unico e quello è immutabile è tuo se non riuscite a fare lo scan poi vi diamo dei abbiamo dei gadget eh? ok va bene a posto no avevi domande scusa perché fai tu ok qui ci sono dei regalini posso dare dei regalini e ci sono e si può scansionare magari fate girare per cortesia ne ho ancora dimmi scusa eh no niente tutto che parlavate mi è venuto il flash che tempo fa ho contratto questa tecnologia qua praticamente state facendo una cosa analoga a quelle che sono le global distribution system GDS GDS per banking eccetera 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 che in realtà booking e Airbnb sono solo interfacce ma cioè quelli che gestiscono tu c'è la testa in questo caso in qualche 2 o 3 allora in realtà nel mondo alberghiero è così nel mondo extra alberghiero tu hai booking che hai gli appartamenti e non c'è un centro esterno che è il GDS che nasce negli anni 50 e quindi poi si scambiano tramite dei software che si mettono in mezzo che si chiamano channel manager ok la sincronizzazione avviene in maniera molto poco efficiente in realtà quello che noi stiamo creando in questo modo è una specie di GDS aperto cioè un database aperto pubblico dove tu che hai creato il dato quindi l'annuncio hai il controllo perché puoi dire io nel tuo sito non ci voglio venire e e non c'è un portale che ha il controllo sul tuo annuncio ok quindi è centralizzato in quel senso tra virgolette se riusciamo le potenzialità sono enormi sì 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 c'è anche l'altro lato che se da un lato è potente questa cosa c'è anche l'altro lato che tutto diventa pubblico quindi se arriva un nostro competitor che è più bravo a fare un frontend può prendere gli stessi dati alla blockchain perché i sistemi aperti sono aperti nel bene e nel male quindi comunque incoraggia la concorrenza e quindi porteranno sviluppo di una piattaforma buona più velocemente che sia la nostra o quella di un altro ma la concorrenza è sana alla fine cioè nei monopoli nulla funziona di base funziona lentamente o non si innova quando c'è concorrenza si innova per quello non possiamo andare all'investitore e dirgli dammi dei soldi perché non abbiamo il famoso fossato ti domandano sempre com'è che proteggi il modello che hai creato noi non lo proteggiamo anzi vogliamo che di più il più possibile vengono un po' come è successo con il bitcoin poi con il litecoin come gli altri quando Zcash si è scoperto che Zcash aveva un bug nel white paper ne avete parlato per caso qualche mese fa ero qui mi vanto ero con Antonopoulos a Sofia in un come si chiama nel bar cioè dopo la presentazione siccome noi siamo tradotti con Trips diamo via Patreon dei soldi ad Antonopoulos quindi gli aiutiamo e ti dà la possibilità quando lui viene a fare le conferenze quando bevi gratis la happy hour la happy hour e troviamo in 6-7 ha raccontato questo episodio di Zcash che qualche mese fa ha scoperto che nel white paper c'era un errore di codice implementato nel codice si sono accorti che qualcuno potrebbe aver stampato creato miliardi di Zcash ma siccome c'è zero knowledge proof non si sa se è successo ok quindi un errore non si sa se Zcash è inflazionato o meno cosa vuol dire per il bitcoin questo? vuol dire che il bitcoin che va alla ricerca di privacy sa che con la tecnologia ha quei rischi quindi non ha pagato cioè ha avuto concorrente perché Zcash è un concorrente di bitcoin ma concorrente gli ha dato dei dati e una specie di habit testing gratuito booking.com fa un sacco di habit testing ma quanti ne può fare? in un ambiente come quello di Trips ci saranno mille progetti tipo Trips e Trips potrà guardare agli altri e vedere cosa funziona cosa non funziona e viceversa per cui se tu mi vieni e dici io faccio le case degli studenti o gli alberghi o un Trips leggermente diverso a noi fa solo piacere porti più gente dentro e fai delle prove questo è il potere delle cose aperte se ho visto bene durante la procedura di acquisto c'è anche la possibilità di revocarlo di annullarlo giusto? hai visto bene? c'era una voce c'è sì c'è sì con delle tempistiche in maniera tale che non possa essere fatto troppo sotto diciamo la scadenza c'è una 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 no al momento la in realtà non lo so neanche questa cosa qua probabilmente non puoi fare non puoi revocare prima di essere entrato quindi se tu arrivi il 15 fino a 14 lo puoi fare che chiaramente dà un danno all'host ma perché è molto basico ancora sicuramente dopo no è proprio la prima implementazione dello smart contra questa sì esatto sì vuoi dargli il microfono no e gli origin vi arrivano a mese dopo sì tu scarichi adesso ti arrivano a mese dopo fanno controlli anti frodi tra l'altro se siete tecnici qualcuno di voi è programmatore il mercoledì sera è troppo bello origin è su hangout e c'è il gruppo di sviluppatori ma c'è tipo youpan a volte che è il primo youtube primo generale di youtube le fanno aperte potete partecipare ed è troppo bello vedere sta gente che parla di tecnologia a dei livelli altissimi si imparano un sacco altra cosa poi finisco se programmate open source per loro dopo a un certo punto possono anche assumere hanno assunto recentemente un ragazzo di Lubliana che ha iniziato a sviluppare codici aperto per loro poi l'hanno assunto quello Lubliana che lavora per Origin quindi Origin è una DAP si ho provato a cercarla all'interno dell'app di Metamask me la trovo però mi dà degli errori io devo crearmi un account separato in Origin per poterlo utilizzare Origin recentemente ha fatto una scelta qualche mese fa mobile first e quindi se tu vai nell'app che scarichi dal Play Store o dall'App Store hai un'esperienza molto facile se vai via browser metamask non molto infatti ho visto che c'è la app di Metamask quindi con l'account Metamask posso utilizzare varie DAP sarebbe stato più comodo per me passare da lì invece di crearmi io ho appena installato Origin devo creare un altro wallet ecco infatti mi perdo in questo passaggio posso utilizzare secondo me è che tu sei nello 0.001 degli utilizzatori cioè quelli che partono dalla blockchain per arrivare all'app il 99.1 partirà dall'app per arrivare alla blockchain se vai nella app appena ha creato l'account ti chiede hai già un wallet o lo creiamo tu dici ce l'ho metti il tuo indirizzo Ethereum e lì rientri e tu lo crei hai capito tu invece sei entrato dall'altro lato probabilmente lì adesso non lo so i dettagli di quello però penso che sia veramente di nicchia quello che hai fatto tu non l'ho mai fatto neanche io sinceramente no nel senso no no siete troppo avanti qui no se ci pensi tutti entrano da app e da lì magari hanno un indirizzo Ethereum a dire tanto e ti dice usalo perfetto dammelo altrimenti te ne creo uno nuovo invece arrivare diciamo il giro inverso non me l'aspettavo massimo ti cerca la cosa peggiore ti cerca trovo no 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 no